Il più grande liceo è stato secondo me. Dopo quattro anni ho preso la decisione di fare questo memoriale in memoria di mio ricordo. È stato difficile organizzarlo, ma la forza è di voi che partecipate a queste cose che organizzo io. E vi ringrazio ancora una volta. Non c'è stato chi ha vinto, chi ha perso. Abbiamo vinto tutti i 22 ragazzi. Vi voglio fare un... Grazie.